Ma io non solo per mandare messaggi, per mandare cose, l'importante è la vita di Pederica, l'importante è la vita della donna di Pederica, perché le tante cose che pubblicamente si sanno di Pederica, secondo me, hanno un'evidenza ormai conosciuta a tutti. Mi interessava entrare in un momento in quello che lei trovava, di certamente, di certi stati, spero di essere stato, come dicevo ieri, a altezza, almeno cinematografica, di quello che lei ha fatto, perché lei ha fatto qualcosa, oggi si usa a sproposo con una parola straordinaria, però quando lei ha fatto è più che straordinaria, direi quasi, infatti come dicevo sono 19, i vostri colleghi giornalisti che sono sotto scopo, credo che un altro giorno si è stato un altro. Perciò non è mandare messaggi, far vedere, trovo al cinema, una delle tante componenti, non è la più importante, è quello che lei ha dato alla sua comunità e alla gente, che spero vada a vedere questo film, da un punto di vista non di impegno civile, ma di impegno più che civile e sociale. Ecco, e quando Paolo Dutturini, che è un vostro collega, mi organizzò l'incontro, io l'incontro con Federica Angeli, io mi ricordo una cosa molto bella che lei disse, che mi sono ricordato ultimamente, e disse, io sono onorato che lei abbia pensato a farlo più su di me, allora io ieri gli ho scritto di rispondere che anch'io sono stato onorato di raccontare la sua storia e, ripeto, sicuramente non sarò mai la sua altezza, ma forse neanche spirito che sarebbe stata l'altezza di quanto lei ha fatto.